Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla tren Napoli-Salerno per lavori relativi all'installazione di nuovi portali segnaletici in prossimità dei viadotti, a partire dalle 22 di questa sera e sino alle ore 6 di domani mattina, troverete chiuso il tratto compreso tra gli svincoli San Giovanni a Teduccio e Napoli-Viamarina in direzione del capologo partenopeo. Sulla statale 7 Quater Domiziana invece per lavori di manutenzione si procede a carreggiata ridotta dalle 7.30 alle 18.30 di domani, mercoledì 4 luglio nel tratto, compreso tra le località Mondragone e Castelvolturno in tutti e due i sensi di percorrenza e qui i lavori vengono effettuati in tratti saltuari. Sulla statale 268 del Vesuvio sino alle ore 17 di venerdì 13 luglio invece per lavori di manutenzione troverete chiuso il tratto compreso tra gli svincoli Ottaviano, zona industriale ed Ottaviano Centro in direzione Napoli. C'è invece il senso unico alternato sulla statale 372 Telesina a partire dalle 7.30 alle 18.30 di domani, mercoledì 4 luglio, nel tratto compreso tra il casello di Cajanello della Uno Roma-Napoli e sino all'allacciamento con la statale 87 Sannitica, anche qui i lavori sono effettuati in tratti saltuari. Infine ci spostiamo a Napoli, notizia di trasporto pubblico. Da oggi e sino al prossimo 31 agosto la funicolare di Mergellina sarà chiusa al pubblico. Sul percorso Manzoni-Mergellina è attivo un servizio sostitutivo su gomma mediante la linea 621 della NM. È tutto dalla redazione Muoversi in Campania, un saluto da Gigi Gallo. Servizio cura di Acamir e Regione Campania Grazie a tutti.